Era il tempo in cui le genti venivano ipotizzate e immobilizzate dalle immagini in movimento. Le si potevano trovare ovunque, disposte qua e là, sistemate a mezz'aria nei bar, nei ristoranti e disposte nei salotti delle fasi. Erano onnipresenti. Le immagini che più di tutte rubavano l'attenzione erano strane, dissennate vicende che si svolgevano su grandi prati d'orca. In molti, per l'occasione, si radunavano attorno a questi stravaganti quadri e si preoccupavano molto per come andavano le faccende di dentro. Poi tutto finiva e ognuno se ne tornava per i fatti propri e ogni volta, stranamente, alcuni erano molto, molto contenti ed altri molto, molto abbacchiati. Che cos'era questo che aveva un così forte potere di condizionare il loro umore? Cosa ci dice, a proposito, la scienza? La scienza dice che nel cervello umano sono presenti una porta e una palla. Quando, per qualche motivo, la palla supera la riga di demarcazione posta tra i due pali della porta, l'individuo può subire un forte shock emotivo che è strettamente legato alla direzione della palla. Ascoltasti gli uomini di scienza. Ma quando ti avventurasti nella profondità dell'animo umano, trovasti solo complessità e una solitudine infinita. Nonostante tutto, eri molto determinato nel tuo sforzo di comprendere la naturale tendenza dell'uomo che lo portava a violare ciò che da altri era protetto. E ti trovasti tra le mani la chiave di tale assurda pretesa. Ma c'era poi davvero qualcosa da capire?